Rispinge al mittente ogni polemica il presidente dell'Assassin in merito alla selezione del personale che ha visto assumere 67 figure a tempo determinato. Tra queste 54 erano già personale interinale in forze alla spa pubblica dell'acqua. Non ci sono zone d'ombra nell'avviso di selezione, tantomeno nell'iter che ha portato al reclutamento, dice Gianfranco Basterebbe. Esternazioni di esposti di Mauro Febbo, politico di lungo corso, sono solo un accanimento nei confronti del personale della società. Quindi questo accanimento verso questi lavoratori, dove è vero che se ne è interessata la politica, ma la sua parte politica certo non è stata a guardare. E gran parte o una buona parte di questi interinali che oggi questo Consiglio di Amministrazione è ereditato, fanno parte di quelle chiamate come è sempre avvenuto. Ancora, dove stava il dottor Febbo, il consigliere Febbo, quando alla Sasi per chiamata venivano assunti centinaio di persone? O vi risulta che sia stata mai fatta una selezione se non per due eccezioni? Di queste cose fino adesso non interessava a nessuno. Oggi, non so perché, tornano alla ribalt degli argomenti seri, dibattuti, affrontati, risolti e confortati da grossi giuristi di fama nazionale. Basterebbe di fare anche le specifiche tecniche richieste dall'avviso per personale qualificato ad occuparsi di reti fisiche. Nessuna sorpresa quindi che 54 addetti, molti dei quali con esperienza ultradecennale, abbia superato la selezione. Ma in questa occasione, dove già siamo sotto organico, è impensabile pensare che uno che non si è mai occupato di rete fisica possa dal giorno dopo svolgere le sue mansioni. Questo è stato l'unico criterio che ha fatto in modo che degli oltre 2000 domande ricevute, solo 130-140 hanno potuto partecipare a questa selezione. Quindi anche chi ha brillato nel pensare che una parte dei nostri interinali potevano essere vingitori di questa selezione, non ci voleva l'uovo di Pasqua.